bello a tutti i free readers oggi facciamo un aggiornamento internazionale un po' veloce ma clamoroso perché vedendo un video diffuso pensate dalla dea prezioso importantissimo principale organismo degli stati uniti contro appunto l'utilizzo illegale di sostanze stupefacenti ma poi che si occupa di tante altre situazioni beh insomma la dea nel suo video di diffusione storico insomma sulla sua storia per spiegare come è nata come è cresciuta come si è sviluppato durante gli anni a livello di politica spiega proprio all'interno del suo video che la regolamentazione in realtà l'illegalità della cannabis è stata frutto più che altro di questioni razziali e di ideologie un po' speciali per non dire negative ecco loro la dicono in questo modo temporane ecco io invece che dire temporane e speciali direi più ideologie un po' razziste sicuramente molto molto razziste perché ricordate sapete benissimo chi mi segue sa benissimo la storia della regolamentazione in realtà dell'illegalizzazione appunto della cannabis avvenuta dal 1937 ma in realtà un un procedimento di quei dieci decenni ecco che ha portato appunto al marijuana tax act sapete benissimo negli stati uniti poi è stato espanso nel mondo e poi tutti hanno copiato con vari trattati internazionali eccetera eccetera prima di arrivare alle convenzioni internazionali 61 poi 71 poi 72 ratificate eccetera insomma sapete benissimo la storia ma comunque sapete che ci sono stati diversi diversi interessi commerciali ma fondamentalmente la grande spinta è stata una cattiva e triste ideologia antiquata razzista che voleva punire semplicemente il diverso che il messicano negli stati uniti l'immigrato che consumava questa cannabis che dava così tanto in realtà distinzione rispetto allo statunitense che non la utilizzava ancora perché ormai oggi è talmente diversa situazione e invece l'immigrato che arrivava con questa usanza differente questa situazione è stata spiegata bene dalla dea nel suo documentario ma ancora oggi si mantiene il divieto federale negli stati uniti anche se il presidente sta spingendo tanto per cambiare questa situazione allora vedremo perché sicuramente cambiare negli stati uniti a livello federale sarebbe un riflesso applicato in tutto il mondo fatemi sapere cosa ne pensate ci vediamo nei commenti bene a tutti i free withers fino a libertà